Siamo nell'aula del Presidente del Consiglio Comunale, Mario Salatiello, c'è una conferenza di capigruppo per decidere sul rinvio del Consiglio Comunale in seguito alla grave dipartita del comandante dei voliziotti municipali calvizzanese. Cosa avete deciso Presidente? Abbiamo deciso insieme ai tre cari gruppo napolano, Santo Paolo e Pisani, anche se è assente e mi ha dato la sua disponibilità, a decidere di rinviare il Consiglio Comunale perché veramente questa notizia ci affranti e non ci risentiamo di affrontare una discussione politica in questo momento, proprio perché gli animi sono scossi, pertanto abbiamo deciso di rinviarlo a data destinata a stabilire dopo i funerali del comandante.